Spettacoli, installazioni, mostre, nuovo circo, concerti, cinema, laboratori, al buio, con gli alberi. Ecco la Notte Nera di Serra dei Conti, edizione 2016, il prossimo 20 agosto. Il festival vetrina dedicato ai linguaggi creativi contemporanei arriva alla maturazione del decimo anno, rafforzando le radici e mettendo nuove foglie. Il festival si avvale del patrocinio del Consiglio regionale, Assemblea legislativa delle Marche ed è inserito nel progetto del distretto culturale voluto della regione Marche, la Valle della Creatività. Così vogliamo essere un po' degli incubatori di un immaginario, intorno agli alberi abbiamo chiamato molti artisti, abbiamo più di 36 proposte che vanno dalle arti visive, alle arti sceniche, ai laboratori e alla musica e al cinema e moltissime sono lavori creati appositamente per il contesto di Serra dei Conti e per questa edizione, quindi valorizzano in qualche modo i linguaggi contemporanei e allo stesso tempo il contesto territoriale. Per noi è diventato un esercizio di sguardo perché l'albero, che è un elemento a nostro fianco sempre, di cui non ci accorgiamo quasi mai, comunque è un esercizio a guardare verso l'alto, a guardare verso il basso, a considerare un'altra scala temporale ad esempio, gli alberi vivono molto più di noi, e anche a considerare un invisibile, c'è una parte di albero che noi non vediamo che sono le radici e sono larghe tanto quanto la fronda, quindi per noi è diventato uno strumento per provocare un'immaginazione e una riflessione. Le presenze, perlomeno negli anni scorsi, sono state anche presenze non solo locali, ma anche persone venute da più parti d'Italia, insomma, quindi è un evento sicuramente che prevarica i confini anche della nostra regione.